Buonasera, benvenute e benvenuti a questo primo appuntamento del Public Programme che M9, grazie alla collaborazione con Stefano Cecchetto che l'ha curato, ha organizzato in occasione della mostra Rivoluzione Vedova. Si tratta di otto appuntamenti nei quali rifletteremo su come le arti a Venezia, si sono evolute, si sono trasformate dal dopoguerra ad oggi. Parliamo di arti in senso lato e non solo di arti figurative perché appunto spazieremo dalla pittura ma arriveremo anche a toccare la musica con gli ultimi due appuntamenti che saranno di fatto un omaggio a Luigi Nono e a 1 Maderna. Questi otto appuntamenti, come forse avrete avuto modo di leggere, si sviluppano da questo primo incontro da settembre fino a dicembre e ne approfitto per segnalarvi un cambio in corsa perché l'appuntamento del 16 novembre vedrà la discussione tra Gabriella Belli e Claudio Spadoni e invece il 23 novembre avremo l'occasione di ascoltare la lezione di Cristina Beltrami su arte e scienza. Ringrazio i relatori di questo primo appuntamento, siamo molto felici di iniziare con Giovanni Carlo Federico Villa e Stefano Cecchetto che andranno a proporre una riflessione sul dialogo tra Vedova e Tintoretto sulle forti passioni, gli scontri, il rapporto di questi artisti anche con Venezia, città che li ha visti impegnati per lungo corso. Io non rubo altro tempo ai relatori cui lascio la parola, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buono ascolto. A presto. Pronto? Pronto? Ecco, sì, questo funziona. Sì, allora intanto grazie a tutti per essere presenti. Io volevo cominciare questa, diciamo così, questa conversazione che io ho chiamato con l'amico Giovanni Villa da un aneddoto personale. Io ho avuto modo di conoscere Emilio Vedova nel 1984. Ero stato assunto dalla Biennale con un contratto a tempo e mi avevano assegnato alla chiesa di San Lorenzo. La chiesa di San Lorenzo in quel momento era un cantiere, un cantiere aperto dove appunto viaggiavano, fluttuavano Renzo Piano, Massimo Cacciari, Emilio Vedova appunto, Luigi Nono e Claudio Abbado. Cioè stare lì tutti i giorni e vedere appunto al lavoro questa macchina culturale, scientifica e altamente creativa, mi ha dato modo poi di avvicinare un po' Emilio Vedova che in quel momento aveva proprio realizzato i disegni per, chiamiamole così, le scenografie che tra virgolette luminose del Prometeo. Vedevo questi disegni stesi sul tavolo e lì ho capito la teatralità di Vedova. Cioè proprio lui ha sempre concepito la sua opera come un teatro, cioè un teatro, una scena, una messa in scena e questo mi ha dato modo proprio anche di conoscerlo, cioè di vederlo al lavoro, nelle discussioni anche con Nono, con Cacciari stesso e poi lì, cioè timidamente, perché chiaramente ero un ragazzo, ascoltavo e vedevo che si metteva in moto una macchina, un qualcosa. Da lì poi, vabbè, un mio secondo incontro è stato poi nel 93 quando appunto era un po' assistente di Achille Bonito-Oliva per una mostra che si chiamava Preferirei di No a palazzo al Museo Corrè e lì Vedova presentava nella sezione dell'alchimia, dell'alchimista, i dischi e i tondi che sono anche in mostra qui al terzo piano. Poi nel 2004 sono andato nel suo studio perché stavo preparando proprio una mostra su Vedova e Nono all'Auditorium Parco della Musica di Roma e sono andato lì a chiedere in prestito le sue opere che riguardavano appunto il rapporto con Nono, sia le carte per intolleranza 60 fatta alla Fenice nel 61 e sia proprio quelle del Prometeo che avevo visto vent'anni prima nella chiesa di San Lorenzo. Vedova lì già vecchio, mi aveva detto, sai, questa idea di mettere insieme il mio lavoro e quello di Gigi è un'idea interessante perché si può vedere proprio la simbiosi tra l'artista e il musicista in una stessa linea di lavoro. Sì, poi mi ha detto ti presto tranquillamente tutte le carte che servono per questa esposizione, adesso parla con Fabrizio Gazzarri, suo assistente che poi è stato anche direttore della Fondazione Vedova per molti anni e che purtroppo è mancato recentemente. Però prima che io me ne andassi, lui era già vecchio perché poi muore nel 2006, quindi il 2004 era proprio diciamo un anno abbastanza vicino alla fine e mi ha detto però sai, la cosa che io avevo sempre in animo di fare sarebbe stato proprio questo confronto, dialogo con Tintoretto, cosa impossibile a mio avviso ma mi sembra, fa parte dei sogni non realizzati. Ecco, questo sogno non realizzato lui non ha potuto vederlo perché poi siamo riusciti a fare questa operazione con appunto grazie anche all'amico Giorgio Baldo e con Germano Celant e la Fondazione Vedova siamo riusciti a farla nel 2013 alla Scuola Grande di San Rocco. Ecco, questo è stato un po' come se io avessi fatto una promessa a vedova, una promessa non detta ma mantenuta in qualche modo, diciamo un debito di riconoscenza che poi siamo riusciti a fare. La mostra alla Scuola Grande di San Rocco metteva proprio in dialogo, dopo lo vedremo più avanti con appunto con il lavoro finissimo che ha fatto Giovanni Villa sulle immagini che poi vedremo ed è stato proprio questo senso di appartenenza dell'artista con un suo maestro antico. Le pagine del diario di Vedova, tra le pagine del diario di Vedova c'è una frase che lui appunto mi ripeteva anche quando abbiamo parlato sul fatto che lui essendo un artista povero da giovane ha detto non potevo permettermi di andare ai musei, pagare il biglietto e andare ai musei però c'erano queste chiese, c'erano questi pittori di chiese con le pale d'altare e potevi stare lì delle ore a fare diciamo bozzetti, disegni e quant'altro. Questa scuola, questa sua prima bottega, chiamiamola così, era proprio la Scuola Grande di San Rocco dove lui stava lì per delle ore e rifaceva appunto i quadri in esposizione a San Rocco. Il rapporto tra Vedova e Tintoretto parte a mio avviso soprattutto da questa teatralità cioè da questo mettere in scena un evento, una cosa. Quando Tintoretto mette in scena il miracolo che lui dice mette in scena il miracolo e Vedova trasfigura questo miracolo e lo rende un'altra cosa, rende pittura diciamo la figurazione diventa in qualche modo gesto, segno, spazio. C'è un tempo, diciamo così, sospeso nell'opera di Vedova perché sembra quasi che ogni dipinto, ogni suo telere, disco e quant'altro sia quasi la puntata successiva di un lavoro che non è terminato e sempre in continuum proprio come lui chiamava il ciclo anche questo esposto al terzo piano. però questo continuum era proprio, cioè faceva parte del suo lavoro. Io adesso lascerei la parola a Giovanni Villa perché lui ci porterà dentro proprio a questa simbiosi cioè a questo modo di leggere insieme Tintoretto e Vedova nelle varie sfaccettature del loro muoversi, del loro operare in assoluta libertà perché io considero loro come due artisti assolutamente liberi. Dovrebbe essere accertato. Ho ammirato in riproduzione tutto quello che sono riuscito a scovare della sua opera è enorme. Vi si trova tutto dalla natura morta a Dio, una gigantesca arca di Noè tutte le forme di vita e con un pathos, una passione, un'inventiva incredibile se mi fossi recato a Venezia l'avrei fatto apposta per lui. Chi scrive queste parole sul suo diario non è Emilio Vedova ma è Paul Cézanne perché Jacopo Tintoretto ha rappresentato per tanto ottocento europeo, ottocento francese quello che è stato in fondo per il 600 e il 700 o un artista follemente amato o un artista fortemente detestato non ci sono vie di mezzo per questo che Calmo definiva un granello di Pepe tanto era piccino e tanto era preso dalla sua arte che è un esordio assolutamente straordinario potremmo dire a Venezia perché viene chiamato in quello che è uno dei luoghi carni delle città riconoscete la grande basilica dei Santi Giovanni e Paolo che ha accanto a sé quella che è la scuola grande di San Marco quindi la scuola grande per eccellenza una scuola che come vedete ha la sua meravigliosa facciata lombardesca due grandi finestre che ci creano un formidabile controluce sul muro di facciata che rappresenta un grande problema pittorico per la sala superiore perché bisogna dipingere tra finestre che portano dentro la luce e Jacopo Tintoretto, un giovane allora artista siamo alla fine degli anni 40 del 500 esegue quest'opera Stefano Cecchetto ci ha parlato di teatralità il teatro che affascinava vedova insieme al colore, al gesto, alla potenza del segno questa è un'opera che rivoluziona l'arte del tempo perché ha la capacità di creare qualcosa di radicalmente nuovo è la messa in scena di una storia sacra con un totale rovesciamento del canone se osservate abbiamo la figura a terra dello schiavo il volto in piena luce mentre il volto di chi fa il miracolo il volto di San Marco è completamente cancellato dalla luce lo vediamo proprio in controluce andando a fare un ribaltamento di quello che sono i generi il punto di partenza di Tintoretto è quanto aveva realizzato del miracolo dello schiavo Jacopo Sansovino qualche anno prima e qui lo vedete tutta questa folla proiettata sul primo piano al centro esatto abbiamo lo sgherro che si sta affrontando il povero corpo dello schiavo mentre lassù appare isolato San Marco nello stesso tempo c'è da parte di Tintoretto una grande percezione un grande studio di quello che si andava facendo con l'architettura palladiana e qui vedete uno dei disegni di architettura di Sebastiano Serlio quindi questa attenzione a costruire l'immagine il punto di fuga centrale le vie che si perdono sono le scenografie teatrali che diventeranno poi la meraviglia del teatro olimpico di Vicenza questo è il punto di partenza di Jacopo Tintoretto ma Jacopo Tintoretto fa qualcosa di completamente diverso immaginate che cos'era la Venezia del tempo è la Venezia in cui il trionfante è Tiziano un Tiziano che in quel momento sta conquistando l'Europa si trova alla corte di Carlo V ed è il pittore europeo per eccellenza Venezia rimane in qualche modo orfana ma nel cono d'ombra di questo straordinario gigante e questo giovane artista crea qualche cosa di diverso due quinte laterali su una quinta mette chi ha condannato lo schiavo che era andato in pellegrinaggio per vedere il corpo del santo denunciato dal padrone e costretto quindi al supplizio a sinistra abbiamo la chiusura con l'architettura palladiana che è anche quella che ci chiude il fondo è questa meravigliosa figura femminile che si reclina all'indietro e tornerà in tanta pittura di Tiepolo e del Settecento a introdurci alla scena così come faceva Raffaello nelle stanze vaticane però osservate che cosa avviene il corpo il corpo dell'umile il corpo dell'ultimo è quello che ci è posto in piena luce questo io penso fosse qualcosa che anche colpiva profondamente Vedova il fatto che Tintoretto mette in scena gli squerarioli mette in scena il popolo di Venezia se Tiziano è colui che ci dà lo state portrait ci dà il ritratto di stato i grandi uomini Tintoretto ci racconta la Venezia della quotidianità e quindi questo è il corpo che sta in luce su cui si spezzano tutti gli strumenti di tortura nello stesso tempo guardate la teatralità c'è chi mostra a chi ha condannato gli strumenti spezzati chi ha condannato osserva e guardate che cosa sta diventando la pittura ed è la pittura di Tintoretto rapidi segni di una pendellata intensa giocata su luci e contro luci ma anche su una densità formidabile di segno se la generazione precedente la generazione ancora prima la generazione di Bellini dei Tintoretto si faceva vanto di raccontare attraverso le armature la capacità della pittura di essere tridimensionale Tintoretto ci fa questo guardate questa bellissima cotta di maglia alternata alla cotta in cuoio di un torso quasi michelangiolesco ma il contrasto con questa armatura in cui le rifrazioni sono date da una materia densa e concreta osservate non abbiamo mai visto ancora in quest'anni una pennellata così intensa e squisitamente concreta e la pennellata di Jacopo Tintoretto è la pennellata che ci porterà poi a queste anse di ombre e di luce ma anche alla capacità tecnica di rivoluzionare vedremo una storia osservate la cotta di maglia se andiamo a vederla nel dettaglio vedete proprio le incisioni fatte col bastoncino del pennello a segnarci i fili su cui andrà a essere costruita la cotta uno dei miracoli di San Marco l'altro lo conosciamo tutti il grande miracolo oggi a Brera questo trasporto del corpo di San Marco quello che ahimè rimane è stato tagliato ampiamente purtroppo come vedete sul vostro lato sinistro il corpo viene portato abbiamo alle spalle San Marco che osserva il tutto in un'immagine in cui inizia a esserci un dialogo con vedova sì e qui vedete proprio anche il fatto che vedova in questo suo disegno toglie il colore o lo fa semplicemente trasparire però la costruzione la costruzione è essenzialmente quella del Tintoretto e questo è uno dei risultati proprio di quelle ore di sosta proprio a guardare a guardare proprio ad osservare c'è Tintoretto nei minimi dettagli e la costruzione appunto teatrale la scena la scena lo sfondo il primo piano per lui sono importantissimi perché è proprio questo modo cioè di rendere la narrazione in maniera in maniera teatrale proprio il fatto che il racconto deve essere anche spettacolo un racconto che deve essere spettacolo e che nasce in modo molto preciso come sappiamo la vulgata ci racconta che Tintoretto entra nella bottega di Tiziano Tiziano lo tiene per una decina di giorni e dopo dieci giorni però lo caccia lo caccia perché si è reso conto che questo granellino di pepe rischia di creargli qualche guaio e allora ci raccontano i biografi successivi di Tintoretto Ridolfi su tutto che lo studioso corso di Tintoretto è stato uno studioso corso alla Toscana se vogliamo ancora cenniniano qui vi mostro un'incisione dell'Accademia di Baccio Bandinelli in cui vediamo il maestro con gli allievi che a lume di candela stanno disegnando dalla scultura antica quindi l'inizio è copiare la scultura e qui vedete quello che è uno dei disegni proprio della bottega di Tintoretto sullo sfondo il maestro che sta lavorando al cavalletto e i vari ragazzi che studiano esattamente come faceva vedova in quell'immagine che abbiamo appena visto e lo studio di Tintoretto come avviene Tintoretto abbiamo circa 400 foglie che sono quasi tutte figure singole figure che analizzano la testa del viteglio e guardate rispetto a quello che ci ha appena raccontato Stefano Cecchetto che cosa fa Tintoretto Tintoretto è uno dei massimi maestri della storia della nostra arte del carboncino utilizza il carboncino con questi colpi di biacca a rialzare per studiare esattamente la luminosità ma anche il peso della figura nello spazio e quindi si procura una serie di modelletti delle tombe medice e osservate come analizza il crepuscolo e l'aurora prende questo suo modelletto lo mette nello studio lo illumina dall'alto e lo osserve in questo caso proprio con una luce proiettata dall'alto e guardate il segno del carboncino che rapidamente identifica la figura e ne identifica le volumetrie e il peso fisico osservate come poi inizi a girarci letteralmente intorno ci gira intorno perché deve capire come questa figura si possa muovere all'interno dello spazio e per lui l'interesse è un interesse di luci esattamente come sarà per vedova non c'è un colore non c'è un colore in praticamente nessuno di questi suoi centinaio di fogli fogli che poi diventano lo studio di compagni di bottega di giovani bottega in questo caso uno studio per un arciere lo vedete quadrettato per essere riportato all'interno della scena complessiva oppure un uomo che è inginocchiato e guardate questo segno come si fa spezzato rapido essenziale sono delle unghiate per raccontarci la muscolarità e il peso fisico del personaggio a cui poi viene dato il panneggio diventerà un arciere diventerà un gondogliere diventerà tante figure e poi e poi Tintoretto costruisce dei veri e propri teatrini dei teatrini in cui posiziona immagini come queste cioè realizzate in argilla o in legno in modo a poter vedere il movimento all'interno dello spazio allora questi disegni questa centinaia di disegni diventeranno per tutta la vita di Tintoretto un repertorio formidabile che troveremo in tutte le sue tele perché ci ha lasciato pochissimi disegni complessivi abbiamo sempre disegni singoli che vengono poi riportati con la biacca molto rapidamente sulla preparazione scura da cui lui lavora per sostanzialmente risparmio perché lo vedremo molto bene tra poco nei grandi teleri si parte sempre dall'oscuro nello stesso tempo Tintoretto lavora direttamente sulla tele in questo caso è straordinariamente moderno non abbiamo dei disegni di composizione guardate questa invenzione un'invenzione meravigliosa siamo con il San Giorgio e il drago della National Gallery di Londra avete mai visto in primo piano una principessa che fugge verso di voi con il santo posizionato sul secondo piano e un paladino poveretto messo lì al centro qui abbiamo l'immagine il suo primo San Giorgio che è quello invece di San Pietroburgo che ha un'iconografia più tradizionale quindi San Giorgio che viene verso di noi uccidendo il drago e la principessa ben protetta dietro l'albero bene l'unico disegno che abbiamo di quest'opera è paradossalmente per il nostro paladino centrale cioè uno dei suoi disegni singoli che lui ha quadrettato e poi ha riportato proprio all'interno della sua composizione allora immagini come queste sono degli unicum cioè l'immagine di un disegno complessivo qui vedete proprio la scena concepita nella sua integrità ed è uno dei dipinti più ironici del nostro cinquecento perché ci racconta da un lato che la pittura può tanto come la scultura cioè ci può diventare e mostrare un uomo da fronte ma anche da tergo e l'ironia è tutta nel vecchio vulcano vedete la fucina laggiù in alto a destra che sta ispezionando venere con un marte il dio della guerra che terrorizzato dalle reazioni di vulcano si è andato a nascondere sotto il tavolo con il cagnolino che decisamente lo sta smascherando quindi una sfortuna proprio incredibile allora osservate l'ironia di Tintoretto innanzitutto ci mette questo cupido semi addormentato ma vediamo il classico bambinetto con l'occhio un po' gonfio socchiuso che vuol vedere come va a finire la scena vediamo il corrucciato marte e poi scusate il corrucciato vulcano e questo marte che terrorizzato dice zitto zitto al cagnolino per evitare guai appunto ben peggiori e osservate come Tintoretto riesca a renderci ad esempio i tessuti guardate come qui sentiamo quasi lo stropiccio serico non c'è quella capacità di raccontare la materia in modo calligrafico di un cimato conigliano di un bellini quello che poi diventerà la materia di Lorenzo Lotto ma qui c'è proprio la capacità di sintesi e di andare all'essenza dello strepiccio di una seta oppure della morbidezza tattile di un velluto è un miracolo ed è il miracolo che poi appunta porta Tintoretto a realizzarci questo bellissimo specchiere che ci mostra da tergo la scena e quindi anche il paragon tra le arti sono le immagini che probabilmente vedova inseguiva vedova inseguiva ci raccontava anche il parroco della Madonna dell'Orto proprio alla Madonna dell'Orto quella Madonna dell'Orto che è ammantata di alcuni capolavori straordinari di Tintoretto Tintoretto e Venezia in qualsiasi chiesa voi entrate in Venezia troverete o un Tintoretto o un epigono di Tintoretto questo non ci scappa e guardate questa invenzione che super dislancio il Tiziano oggi delle Gallerie dell'Accademia guardate questa vertiginosa salita la madre che indica la virtù dalla bimbetta di quella Madonna che va verso quel alto irraggiungibile sacerdote lassù su questa scalinata che sembra quasi una torta nunziale e quella Madonna dell'Orto quella Madonna dell'Orto in cui Tintoretto vive a pochi passi questa era la sua casa e questa è la Madonna quella Madonna dell'Orto che si apre proprio appena entriamo con una meravigliosa opera di cima da Conegliano non c'è più la Madonna col bambino ai medi bellini ma sullo sfondo ci sono questi due teleri stupefacenti come sapete quasi una decina di metri per raccontarci Noè il vitello d'oro le tavole dell'alleanza e poi il giudizio universale un'opera di un'impressione doveva essere per vedova assolutamente stupefacente la mostra che c'è adesso all'emmenover raccogliendo e raccontando in fondo questa incredibile stuola di tele dobbiamo immaginarla come parte da modelli come questo cioè per dipingere questa tela Tintoretto come aveva agito ovviamente non ci stava nello studio e lui aveva lavorato in un modo per noi inconcepibile cioè srotolava la tela poco a poco man mano che lavorava quindi solo quando la aprirà tutta avrà l'idea di che cosa ha realizzato per il resto è un'operazione in corso d'opera guardate anche qui questa quasi trasfigurazione di Mosè e questo Dio portato dagli angeli con le tavole dell'alleanza è un'invenzione che lascia senza fiato nello stesso tempo che cos'è il giudizio universale questo turbinio d'acque impetuoso in cui la materia stessa va a distrutturarsi in una pennellata che si fa sempre più rarefatta guardate come i secondi piani di Tintoretto quasi scompaiono ce li dà con pochi colpi di biacca che siano del tutto evanescenti è quello che avviene alla scuola grande di San Rocco la scuola grande di San Rocco che è la Cappella Sistina di Venezia perché è il luogo in cui un artista ha realizzato tutto quando noi arriviamo nel campo abbiamo la chiesa abbiamo la scuola entriamo e Tintoretto è partito in modo quasi insordina sapete tutti l'aneddoto del famoso concorso Santa Pace in cui si dice vabbè ognuno di voi e si invitano i grandi artisti veronese Tintoretto San Somino presenta un bozzetto sceglieremo il migliore e lo commissioneremo Tintoretto corrompe il guardiano della scuola grande realizza direttamente l'opera la fa posizionare la scuola non può non accettare un dono quindi Tintoretto vince diciamo così alla commissione e da lì partirà con tutta questa sua straordinaria avventura che è San Rocco un San Rocco in cui se appunto qui abbiamo in fondo un'immagine per certi aspetti molto tradizionale poi cambia tutto cambia tutto e qui inizia il dialogo forse più intenso e più forte tra vedova e Tintoretto ma anche per uno studioso di Tintoretto di rinascimento quanto di più commovente ci sia nel dialogo con la contemporaneità perché ti rendi conto di quanto un artista come Biglio Vedova abbia concepito e perfettamente reinterpretato e sia ripartito da un modello creando qualche cosa di altro ma attualizzando un linguaggio e una tradizione sì c'è anche un aspetto che riguarda molto la simbologia degli opposti cioè prima notavo appunto quello che diceva Giovanni Villa sull'altare della Madonna dell'Orto dove da una parte c'è il giudizio universale e dall'altra l'adorazione del vitello d'oro e c'è sempre questo contrasto tra bianco nero positivo negativo che si ritrova anche nella Basilica di San Giorgio dove c'è l'ultima cena da una parte la caduta della manna dall'altra quindi due momenti sempre in simbiosi ma anche in contrasto tra di loro e poi quello che diceva giustamente Giovanni Villa prima questo concetto della sintesi cioè la sintesi vedova riesce a sintetizzare dentro voi pensate ecco per esempio questo il Mosè fa scaturire l'acqua dalla roccia chiaramente a San Rocco è un quadro importante il disegno è un 30x40 cioè quindi questo anche le dimensioni e tutto il contesto viene poi riscritto da vedova in una dimensione altra in qualcosa che si riduce o che si amplifica perché appunto c'è vedova è anche appunto l'artista che riesce a rendere nel piccolo e nel grande le stesse emozioni e le stesse sensazioni qui c'è appunto questo dittico che è appunto un vortice un entrare dentro a un altrove a qualcosa a qualcosa di altro perché appunto vedova era questo era proprio il un sentimento del del cercare dell'essere continuamente in in esame anche con se stesso e anche con la sua pittura e questo proprio è il suo il suo non dove ecco anche questi titoli che lui appunto appiccicava alle opere perché per vedova il titolo non è mai una descrizione dell'opera può essere una stampella qualcosa che aiuta a leggere l'opera ma poi il senso dell'opera è tutt'altro e il titolo lo accenna lo in qualche modo lo suggerisce però poi lascia al visitatore interpretazioni più ampie e più complesse che sono interpretazioni e che fanno appunto e trovano una proda una sintesi in immagini come quella dell'ultima cena questa è una delle ultime cene realizzate da Tintoretto se vi muovete per Venezia ne troverete un buon numero di ultime cene in cui in ognuna Tintoretto è riuscito a variare abbiamo dall'ultima cena di Santrovaso in cui vediamo questi proprio uomini questi pescatori che sono entrati nella taverna della Venezia contemporanea a immagini come questa ben più sontuose ma guardate questa idea di creare una diagonale in profondità data dalla mensa Cristo messo laggiù in fondo come sempre facciamo e siamo in difficoltà a individuare di primo acchito chi sia Giuda tutti sappiamo bene possono essere Giuda ma anche l'innesto laggiù in fondo in questo silver buffet quindi quanto di più sontuoso ci sia creandoci però una sorta di proscenio a introduzione ed è una delle immagini su cui appunto vedova va poi a lavorare proprio in una logica di strutturazione di teatralità e di colore molto precisa sì infatti una delle tecniche ecco il pastello come in questo caso è una delle tecniche più usate in questa serie di disegni proprio quelli che riguardano appunto le relazioni col tintoretto l'alchimia di vedova anche è importantissima perché appunto in ogni suo in ogni suo quadro adesso anche appunto in fondazione vedova abbiamo anche imparato a non mettere più tecnica mista su carta o tecnica mista su tela ma cominciamo a distinguere le varie le varie discipline usate dentro e quindi il carboncino che richiama appunto quello che Giovanni Villa diceva prima sui disegni cioè di tintoretto il carboncino il pastello l'inchiostro che usa moltissimo perché poi vedova apparentemente sembra un artista dell'istinto ma in realtà è un un artista che ha tutto già calcolato in testa e quando arriva sulla tela o sulla carta il disegno è già ben presente che poi l'altro esempio quindi con un'opera di formato completamente diverso l'orazione nell'orto in cui come vedete Tintoretto mette insieme due momenti differenti e anche in questo caso la risoluzione che ne dà vedova che inizia già ad andare in un'altra direzione e sembrerebbe più al greco sembrerebbe molto più al greco se metti insieme questi due un assemblage decisamente di queste opere sì sì infatti è quello che dicevo prima sul discorso della sintesi mentre appunto il c'è la tela del Tintoretto ha una dimensione questo torniamo proprio alla dimensione del block notice del quaderno di appunti e del concentrare tutto dentro per la narrazione e per il racconto San Rocco vi dicevo vuol dire per Tintoretto creare la propria Cappella Sistina e quando entriamo in San Rocco quello che colpisce della sala inferiore questa sala inferiore che sapete termina proprio con la statua di San Rocco con l'angolo più buio che vedremo anche l'ultimo affrontato da Tintoretto là dove andavano i poveri a chiedere l'elemosina alla scuola un ambiente che si apre con un'opera stupefacente un'opera stupefacente perché è una delle grandi invenzioni dell'annunciazione guardate questa annunciazione questa è veramente all'esterno la bottega di un falegname osservate questa bottega densissima con Giuseppe che sta lavorando ai suoi legni e poi abbiamo la camera della Madonna con una camera apparentemente povera vedete il pavimento sporco la sedia sfondata quella sedia che è quasi la sedia di Van Gogh e in questo caso la vediamo impagliata con l'impagliatura sfondata la Madonna che ha lasciato cadere dalle mani il taglio e cucito cui sta lavorando il libro d'ore tra le braccia e lo stupore nel momento dell'annuncio e come sapete ci racconta Sant'Agostino che l'annunciazione arriva per aureme vedete come Tintoretto scopre l'orecchio della Madonna e questa incredibile sequenza di putti angelici che si incarna attraverso lo Spirito Santo dentro la Madonna e poi la Madonna che si trova in un ambiente che se umilissimo in primo piano sullo sfondo diventa un letto baldacchino di rara sontuosità è un'invenzione assolutamente magnifica con il soffitto che ci riporta a quella che è la grande sontuosità che troveremo nella scuola grande non giù nel sale inferiore ma ovviamente nella sala superiore e qui vedete proprio l'operazione che porta al 2013 con cui Stefano nel 2013 abbiamo installato questi otto teleri sollevati in alto in dialogo cioè in posizione centrale e in dialogo col perimetro appunto delle pitture di Tintoretto c'è l'idea poi con Germano Ceyland quando abbiamo un po' deciso questa situazione allestitiva era proprio quella di non disturbare Tintoretto però in qualche modo far vedere anche che vedova irrompe in qualche modo sulla scena crea un disturbo ed è una presenza inquietante forse anche come l'angelo dell'annunciazione di prima che non è consolatorio è un angelo che irrompe sulla scena e crea in qualche modo disagio nella cosa e quindi abbiamo creato un certo disagio a San Rocco la scuola grande di San Rocco imponendo in qualche modo questa entrata trionfale dei Teleri e poi giustamente d'accordo anche con Germano abbiamo pensato di di inserire le opere soltanto al piano terra perché il primo piano è già una magnificenza di qualsiasi cosa ecco il primo piano il primo piano come sapete noi lo guardiamo sempre ovviamente per Tintoretto a volte ci dimentichiamo di che cos'è l'eccezionalità di intaglio di questo soffitto ma anche i meravigliosi stalli lini oppure il centinaio come sapete di pietre che compongono e costituiscono il pavimento della sala superiore quindi un capolavoro nei capolavori che ci introduce a un ambiente più ridotto quella sala dell'albergo dove si sviluppa il senso ultimo della storia con questi meravigliosi paraboloidi di Mariano Fortuni per illuminare lo spazio in cui abbiamo Cristo davanti a Giudon Giuda che si lava le mani questa meravigliosa altrettanto invenzione di Cristo con i ladroni che ascende lentamente faticosamente al Golgotha e guardate in questo caso come di nuovo Tintoretto metta in primo piano i ladroni e solo sullo sfondo la figura di Cristo e di nuovo guardare tutto dal punto di vista degli ultimi che poi saranno i primi e tutto si sostanzia nella crocifissione quella crocifissione che è diventata un banco scuola per i secoli successivi se ci pensate perché questa immagine per certi sapete di simmetria tutta quattrocentesca al centro esatto il Cristo crocifisso un ladrone lo si sta inchiodando l'altro lo si sta sollevando faticosamente il centurione che osserva la scena il gruppo centrale della madre svenuta e là ben nascosti i soldati che si stanno giocando a dati la veste di Cristo se lo guardiamo nei dettagli abbiamo in fondo tutto quello che è il grande seicento chi è il più grande pittore del seicento europeo? Rubens e Rubens da chi parte? parte certo da Tiziano ma parte anche potentemente da nostro Jacopo Tittoretto guardate questa immagine femminile questa madre allattante prosperosissima in basso a sinistra esattamente la madre che vedevamo in piedi nel miracolo dello schiavo guardate la fatica con cui viene elevato il Cristo e il centurione che indica sono esattamente il centurione che indica la fatica con cui viene sollevato il buon ladrone nel crocifissione di Tintoretto sono i soldati che si giocano lì ad Adi appunto la veste del Cristo e la straordinaria immagine di questa madre che sviene con Giovanni che guarda verso l'alto e si domanda cosa stia accadendo e poi guardate questa figura completamente avvolta e reclinata questa quasi lancia di luce che ci porta all'interno della composizione un'opera che diventa per vedova un banco di scuola un banco di confronto assolutamente eccezionale proprio anche in questa capacità di Tintoretto di darci la profondità attraverso questo cancellare quasi il cielo sullo sfondo segnato appena da pochi immagini e gesti estremamente rapidi che sono quelli che rapidamente ritroviamo in quel colloquio del 2004 quando abbiamo parlato brevemente di Tintoretto e di questo suo sogno inespresso lui mi aveva anche detto vai a rivedere la crocifissione di San Rocco perché è un set cinematografico ha detto è è un film di se si ha detto devi vedere vedi cinque o sei set nello stesso nello stesso ripiano quindi questo è diciamo impossibile da riprodurre e quindi si torna appunto a quello che dicevamo prima a stringere a comprimere a rimettere tutto dentro a una forma più più leggibile più 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 facile forse da scorrere con gli occhi senza andare a sezioni come si potrebbe fare appunto come si deve fare per la crocifissione di Tintoretto qui stiamo parlando sempre di opere del 38 39 1938 39 Emilio Vedua nasce nel 19 quindi stiamo parlando di un ventenne che si mette a rifare queste opere poi cioè chiamiamoli così questi studi su Tintoretto finiranno nelle anni nel 42 43 dove lui poi prende un'altra strada che non è un'altra però è una diversa interpretazione di questa sua stessa indole pittorica e sono le immagini appunto che evolvono questa è crocifissione contemporanea quindi chiaramente passiamo da una narrazione figurativa a un astratto che però in qualche modo riflette su quello che abbiamo visto prima sì e che poi però appunto prosegue in e questa appunto è un'opera anche questa era nella mostra di vedove Tintoretto appunto questo in qualche modo questo assunto di tutta la sua opera i dischi i plurimi e poi questo crocifisso chiamiamolo così questa composizione laica in qualche modo che però ha una sacralità che è appunto data anche dal primo piano del crocifisso e questa è un'opera emblematica anche per vedova e se ci pensate qual è la fine di Tintoretto la fine di Tintoretto è la fine di molti dei grandi artisti del nostro cinquecento pensando a un Michelangelo e un Tiziano e queste immagini di un senso panico della natura la Maria leggente la Maria egiziaca questa natura che ormai ha conquistato completamente la scena nelle due figure che si trovano in fondo alla sala inferiore proprio là dove si andava a chiedere un aiuto e guardate che cos'è la pennellata finale Tintoretto preparava le sue tele in un modo molto particolare la sera faceva tirar su dai ragazzi a bottega tutto il colore che era rimasto sparso in bottega lo faceva bollire tutta la notte e la mattina lo spargeva sulla tela quindi era una preparazione scura una preparazione quasi bituminosa questo gli consentiva di lavorare in modo estremamente rapido perché partiva dagli scuri e con pochi colpi di colore riusciva a ottenere l'immagine lo vedete bene da queste radici che emergono dalle acque lo vedete bene in quello che sono le acque che scivolano via guardate questo segno guardate questo gesto guardate che cos'è la pennellata dell'ultimo Tintoretto il Tintoretto che si accomiata dalla vita un Tintoretto di cui avete visto lo sguardo di Brage di quel giovanotto poco più che ventenne questo è il Tintoretto alla fine della sua vita è un uomo che ha toccato tutto ha conquistato tutto ha avuto grandi fortune ma anche grandissimi dolori pensate alla morte dell'amatissima figlia Marietta e poi è un uomo che ci osserva con questo sguardo di rara intensità ed è l'uomo da cui ripartono gli impressionisti questo è il ritratto di Tintoretto Iacobus Tintoretto Pictus Venetus Ipsius fatto da Manet nello stesso tempo questo volto di Tintoretto impressionerà moltissimo Emilio Vedova c'è un'immagine che Stefano pubblicò nel catalogo Vedova Tintoretto che è assolutamente impressionante della perfetta compenetrazione in fondo tra un artista e il suo potremmo dire esegeta perché osservate come letteralmente in fondo Vedova sia Tintoretto alla fine della sua vita un Tintoretto di cui Giorgio Vasari il grande interprete della pittura toscana che come sapete nulla risparmiava ai veneziani arriva di in fondo a scrivere che Tintoretto altro non è che il più terribile cervello che abbia mai avuto la pittura grazie se avete delle domande ci stavate qui ad ascoltare ancora un'ora 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 dopo la famosa mostra alla scuola di San Rocco è stata una rivelazione un'illuminazione solo dopo aver avvicinato il primo vedova il vedova ventenne ho capito il vedova maturo no capitolo è una parola grossa e il vedova ventenne mi ha aiutato a capire a leggere in un altro modo Tintoretto questa sera questa conferenza che non è una conferenza è una è un qualcosa di più qualcosa di più di una conferenza di cui vi ringrazio moltissimo per l'estrema sintesi e l'estrema facilità di comprensione di concetti così difficili che sono stati raccontati e illustrati in maniera divina questa sera questo incontro chiamiamolo così mi hanno ulteriormente avvicinato a Tintoretto e a vedova e mi hanno aperto un po' di più il cuore quindi grazie ecco per quanto riguarda la teatralità di vedova quello che dicevamo prima la mostra al terzo piano è esemplare perché proprio mette in scena come avrebbe voluto il maestro alcune sue chiamiamole così tra virgolette installazioni che non sono installazioni ma è un modo di occupare lo spazio in maniera diversa dalla tela appesa al muro la sequenza delle opere in continuum che c'è di sopra che per la prima volta viene esposta proprio anche nel modo in cui l'aveva concepita vedova questo grazie proprio anche a Fabrizio Gazzarri che ha seguito appunto l'allestimento della mostra proprio sapendo cosa andava a rappresentare e quindi questo dà proprio anche il senso proprio di vedo è sempre stato un artista tridimensionale ma non scultore è stato un artista che voleva occupare lo spazio con la pittura con il gesto e con il pensiero quindi chi non l'ha vista invito a vedere la mostra al terzo piano se mi è consentito una dipunta il miracolo dello schiavo ha un'altra particolarità fa entrare l'osservatore dentro al quadro dentro al quadro dentro alla tela se lo scuro ed è un po' quello che succede con le opere di vedova ci si sente risucchiati all'interno e quindi c'è un altro a scherzo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti